il mio più cordiale ben trovato al pubblico di blog sicilia nuovo appuntamento con talk sicilia cominciamo a far parlare da oggi anche di regione siciliana come abbiamo fatto con le puntate speciali di talk sicilia dedicate alla nuova giunta comunale di palermo che abbiamo intitolato palermo verso il futuro facciamo anche con la regione siciliana guardando a quello che è l'idea di sviluppo della regione che ha la nuova giunta schifani nuova sì perché si è insediata da circa un mese e quindi con tante cose da fare ma dopo aver preso già un primo contatto cominciamo dall'ospitale edita maio assessore alle attività produttive che ringraziamo per essere qui con noi buongiorno buongiorno e partiamo subito da qui i primi le prime cose che la giunta ha dovuto affrontare sono stati evidentemente i temi di bilancio e di queste ore la notizia che finalmente è arrivato il salva sicilia che dovrebbe sbloccare quel bilancio che rischiava di restare ingessato e questo permetterà comunque di cominciare a guardare a come la sicilia deve svilupparsi assessore sì è chiaro arrivata una buona notizia da roma c'era stato un già una precedente interlocuzione del governo regionale e il governo nazionale e questa norma permetterà di spalmare il disavanzo nel corso dei 10 anni questo ci permette di poter operare di poter non avere un bilancio ingessato ma un bilancio attivo che possa anche programmare e creare le condizioni di sviluppo per la nostra terra ecco partiamo da qui allora qual è l'idea che avete parliamo di attività produttiva perché il settore nel quale di tamaio opera qual è l'idea che avete di investimenti per la ripartenza della nostra produttività siciliana io sono assessore da un mese abbiamo già attivato un percorso di di intercettare di andare a intercettare alcune risorse che riguardano fondi poc fondi fsc per attivare quattro misure di finanziamento progetto si chiama competitività sicilia ed è rivolto ad aziende alle start up a processi innovativi a c'è un progetto si apre progetto connessioni per cui stiamo cercando di mettere nel sistema centinaia di milioni di euro che possono andare incontro alle esigenze dei siciliani e per chi vuole fare attività imprenditoriale cercheremo di lavorare sempre per cercare di far diventare più attrattiva possibile dal punto di vista commerciale della nostra tepa cercando di contrarre i tempi cercando di accorciare i tempi della burocrazia attraverso percorsi di sburocratizzazione che su cui stiamo lavorando su cui stiamo cercando di capire come intervenire per accorciare i tempi perché ripeto da quando mi sono insediato ho detto la mia struttura che la la politica deve andare alla stessa velocità dei bisogni dei cittadini in questo caso delle imprese ecco questo è probabilmente una delle prime richieste che arriva da parte dell'attività produttiva ma da chi vuole investire tempi certi per un'autorizzazione per un finanziamento chiaro spesso l'investitore aveva paura di investire in sicilia per la criminalità per l'alto tasso di criminalità oggi devo dire che l'investitore ha paura della lentezza della burocrazia per cui dobbiamo lavorare attraverso norme che possono contrarre i tempi accorciare i tempi io li chiamo processi di sburocratizzazione che vanno avviati e vanno realizzati in fretta dopodiché oltre ai tempi ho attivato un percorso di concertazione con le associazioni di categoria tutti quei bandi che vanno fatti e vanno creati devono essere prima concertati con le associazioni di categoria perché le associazioni di categoria sono coloro che conoscono il sistema le strutture poi rappresentano interessi delle aziende per cui da questo punto di vista possono darci anche noi dei consigli utili e valide per la stesura di un avviso di un bando ci sono c'è uno strumento che è stato attivato da poco ma forse ancora non lo abbiamo visto partire o non lo abbiamo notato noi che è quello delle zone e con delle zesse delle zone economiche speciali sono due una nella sicilia occidentale l'altra nella sicilia orientale che coinvolgono molti comuni che possono essere veramente un volano per fare per attirare investimenti e per far sviluppare ma si sta partendo si sta facendo qualcosa ha incontrato i responsabili state validando dei piani delle dalle idee ma da questo punto di vista ho già incontrato i due commissari delle zone zesse sia quello della sicilia occidentale che il professor a menta e il commissario della zona della sicilia orientale che il dottore di graziani devo dire che abbiamo fatto un primo colloquio devo dire che c'è grande sintonia c'è grande voglia di fare la prima cosa da fare però informare i territori che c'è questa opportunità e c'è questa posizione di vantaggio all'interno delle aree zesse soprattutto chi investe nelle aree zesse avrà una legislazione speciale avrà il credito d'imposta avrà un una maggiore vantaggio dal punto di vista della contribuzione soprattutto e quindi dobbiamo intanto andare in giro per la sicilia per pubblicizzare questo questa opportunità per far diventare sempre più attrattiva dal punto di vista commerciale della nostra la nostra terra per cui ci attiveremo in tutte le province della sicilia per creare un meccanismo anche di comunicazione con i sindaci con il territorio con le associazioni di categoria ma forse non soltanto in sicilia forse anche alle imprese del resto d'italia del resto d'europa andrà comunicato l'esistenza della possibilità di investire in sicilia quindi cercare di attirare investimenti anche chiaro chiaro faremo anche sul sul resto del territorio nazionale perché ripeto queste aree sono oggetto di interesse da parte di grandi multinazionali da parte di grandi industrie questo per quanto riguarda le zone economiche speciali c'è un'altra norma però che sulla quale si è lavorato che non è di diretta pertinenza delle attività produttive ma che però ha un effetto sulle attività produttive che è quella per esempio delle zone franche e montane che stanno una norma un po dimenticata ma è una zona sì abbiamo lavorato per carità e ci vogliono ingenti e risorse per procedere anche in questa direzione per cui sarà un tema che affronteremo nelle prossime settimane mi sono permesso di affrontare questo questo tema questo percorso anche con le associazioni di categoria invitando tutti gli attori principali a sedersi a un tavolo per capire attraverso un un confronto con Roma una sinergia con Roma capire come 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 avviare anche questo percorso un altro grande tema è quello del mondo delle cooperative del mondo degli artigiani che ha bisogno di sostegno e di aiuto sì sono stato in fiera a milano ho visto circa 90 artigiani siciliani esporre le loro ricchezze devo dire che abbiamo ottenuto un grande risultato in termini di immagine e anche in termini di grande di comunicazione e per cui noi siamo veramente come struttura assessorale molto vicino al mondo degli artigiani ho incontrato in questi giorni nelle scorse settimane diverse associazioni nel mondo di categoria del mondo artigianale e devo dire che c'è grande sinergia e grande collaborazione in questa direzione abbiamo lavorato per cercare di istituire finalmente quel lente che è l'IRCAC stiamo andando abbastanza veloce per arrivare alla fase di fusione dei due istituti di CRIAS ed IRCAC per cui stiamo andando in questa direzione perché è corretto fornire credito a questi due mondi che rappresentano veramente il fulcro dell'economia dell'economia siciliana la prima grande sfida che avete affrontato quella che tra virgolette vi è piovuta addosso comunque è stata certamente quella della crisi che tutte le attività produttive di qualunque genere stanno vivendo in Sicilia forse più che altrove dovuta ai problemi energetici ma sì, diverse crisi, non solo quelle energetiche, io mi riferisco anche alla crisi dell'avvertenza del caso Lucoil di Siracusa è stata anche lì una bella patata bollente che abbiamo affrontato dopo un paio di giorni che io sedessi in quella poltrona di assessore e devo dire che è stato un problema affrontato con grande sinergia, con grande collaborazione con il governo nazionale che va verso una soluzione perché ripeto lì è un luogo che dà occupazione a circa 10.000 famiglie tra indotto diretto e indotto indiretto quanto riguarda la questione energetica abbiamo noi già attivato un percorso, abbiamo deliberato per circa 350 milioni di euro di aiuti per quanto riguarda il bonus energia delle aziende, abbiamo già attivato un percorso, abbiamo stabilito dei requisiti che saranno pubblicati nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e potrà permettere a diverse aziende di avere un contributo economico che possa alleviare i problemi e soprattutto le enormi e ingenti somme pagate per quanto riguarda il costo dell'energia e quando parliamo di contributi viene subito in mente un altro aspetto, uno dei primi interventi dell'assessore Tamaio è stato quello che riguarda le modalità di erogazione anche di questi contributi, insomma in buona sostanza stop ai click day sì, la procedura del click day è una procedura che io non ho condiviso da deputato e nemmeno da cittadino per cui nel momento in cui ho iniziato la mia attività da assessore alle attività produttive ho avuto un confronto con la mia struttura e ho detto no, basta, è il click day è una procedura che non funziona, è una procedura che è inutile, che crea immobilismo perché ha creato anche immobilismo visto le precedenti questioni, per cui dobbiamo attivare quel percorso che prevede anche una meritocrazia il progetto va finanziato e va approvato se merita di essere finanziato quindi preferiamo la meritocrazia al click day o alla velocità di chi è più bravo a collegarsi o se quel giorno è fortunato a sapersi collegare e magari a cliccare prima di un altro quindi arrivare a un finanziamento in relazione anche a quelle frazioni di secondo in più o in meno non mi sembra corretto però questo significa commissioni, significa lavoro di analisi, significa tempi più lunghi ma diciamo di sì, stiamo anche lavorando in questa direzione abbiamo chiesto anche strutture tecniche che possono supportare la macchina organizzativa cercando di comprimere più possibili tempi ripeto, è una battaglia che io, una delle mie prime battaglie che condurrò per cui andremo nella direzione di stringere quei tempi che sono poi quei tempi che fanno danno a tutte le attività imprenditoriali siciliane dicevo è impensabile che un'azienda partecipa a un bando nel 2018 e poi riceve magari le risorse nel 2022 scusate, vuol dire che non abbiamo svolto un buon servizio per cui dobbiamo contrarre i tempi, dobbiamo lavorare su questo e dobbiamo, se è il caso, anche attraverso una struttura di assistenza tecnica essere supportati nell'erogazione dei benefici economici e c'è un grande problema che riguarda un po' tutta l'amministrazione regionale che è anche quello delle risorse umane spesso non ci sono delle risorse sufficienti a velocizzare le procedure alle volte mancano le competenze per esempio è successo con i bandi del PNRR ma soltanto per fare un esempio questo è un problema reale che ha già riscontrato ma guarda, bisogna, secondo me, lavorare in due direzioni attivare la stagione dei concorsi e quindi assumere e poi far crescere quel senso di appartenenza quello spirito di appartenenza all'interregione da parte dei dipendenti non ci vuole molto ci vuole dialogare ci vuole creare un rapporto di collaborazione e io posso dire che il primo giorno che ho partecipato sono andato in assessorato ho chiamato tutti i dipendenti della mia struttura e devo dire che stanno lavorando veramente bene con grande dedizione e con grande, ripeto, senso di appartenenza all'interregione cosa ci dobbiamo aspettare quindi come iniziative nelle prossime settimane e nei prossimi mesi cioè una volta che sarà sbloccato questo bilancio che non ci sarà più con la spada di Damocle degli 866 milioni da accantonare ci saranno delle risorse che si potranno impiegare come pensate di impiegarle prioritariamente? noi abbiamo già avviato un percorso per quanto riguarda un progetto che si chiama Competitività Sicilia sono quattro misure che prevederanno a molti siciliani a molte aziende siciliane di poter partecipare parliamo di start-up di temi di innovazione di co-working eccetera sono diverse misure che vogliono andare nella direzione di implementare e far crescere il tessuto produttivo siciliano per cui abbiamo utilizzato questi circa sono 105 milioni di euro che poi possono essere implementati per dare una risposta seria e tangibile alle nostre attività produttive fin qui abbiamo parlato di idee di sviluppo di quello che insomma interessa un po' i siciliani che producono che lavorano però c'è anche da affrontare un altro tema che è quello dell'attuale situazione politica alla regione siciliana il governo si è insediato sta muovendo i primi passi anche in assemblea regionale ma insomma si è registrato anche una spaccatura dentro il vostro partito forse tale una spaccatura che può portare dei rischi da un punto di vista di tenuta? ma io penso di no io ho scelto di non occuparmi di questo tema e ho scelto di lavorare non c'è stato nessun comunicato da parte mia non c'è voglia litigare da parte mia c'è voglia solo di lavorare e dare veramente un servizio ai siciliani attraverso il mio operato per cui tutto quello che riguarda saliti e litigi o questioni che riguardano un sottogoverno in più o un sottogoverno in meno sono secondo me dei temi che non appassionano ai siciliani non appassionano a me figuriamoci ai siciliani che in questo momento aspettano solo risposte da parte di questo governo visto che non abbiamo più scusanti visto che abbiamo un governo di centrodestra a livello nazionale un governo di centrodestra a livello regionale e un governo di centrodestra anche a livello cittadino per cui siamo quasi monocolore e per cui anzi siamo monocolore per cui non abbiamo più scusanti dobbiamo solo lavorare e non litigare perché le liti non portano mai nulla di buono ma da palermitano Edita Maio cosa pensa che serva alla città di Palermo e lo domando anche al figlio di un assessore comunale ma serve intanto far crescere lo spirito della pertenenza intanto dei dipendenti della macchina amministrativa quindi come alla regione serve anche alla città di Palermo sì perché la politica cammina di pari passo con la burocrazia non possono scontrarsi dopodiché ci vogliono risorse perché i bilanci che sono che ha ereditato questa giunta di governo sono bilanci veramente devastanti per cui ci vogliono delle risorse e so che c'è un intervento anche da parte dello Stato in corso d'opera per poter come dire far ripartire anche la macchina amministrativa comunale c'è un buon sindaco c'è un'ottima giunta un ottimo sindaco c'è grande spirito e grande passione nell'amministrare la cosa pubblica devo dire che ci sono tutte le condizioni questo governo cittadino oggi sta lavorando devo dire con grande dedizione e con grande passione nonostante ci sono pochissime risorse dal punto di vista economico però i bilanci si possono risanare è iniziata un'attività di risanamento dei bilanci comunali grazie anche all'intervento di Roma e bisogna soprattutto cercare di collaborare di più con il privato secondo me la sinergia pubblico privato può creare grandi risultati mi riferisco alla gestione degli impianti sportivi mi riferisco alla gestione di aree verdi quindi la connessione che c'è tra il pubblico e il privato secondo me può portare grandi risultati e secondo me bisogna andare verso questo processo di privatizzazione di tanti settori perché attraverso la privatizzazione si possono vedere migliorie e sicuramente servizi migliori per la cittadinanza i collegamenti fra i governi il fatto che come giustamente diceva la sessore Tamayo c'è una sorta di monocolore da Roma a Palermo ha portato al fatto che lo Stato stia aiutando la Regione stia aiutando Palermo ma forse anche la Regione può venire incontro e aiutare la città di Palermo ma lo faremo alla fine della scorsa legislatura stavamo avarando un provvedimento per far arrivare alle città metropolitane le tre città metropolitane delle risorse ingenti lo faremo probabilmente a breve ma è chiaro che c'è anche come dire un rapporto di reciproca collaborazione tra le tra le città metropolitane e la Regione siciliana per cui dico al di là del colore politico ma noi dobbiamo governare la Sicilia e quindi dobbiamo andare avanti sempre in questa direzione e quando c'è una città metropolitane mi viene in mente un altro grande tema che è quello delle ex province c'è una scelta forse non proprio opportuna quella che è stata fatta a suo tempo abbandonandole a se stesse e con le conseguenze che ci sono state e nel programma di questo governo intervenire da questo punto di vista sia a livello nazionale sia a livello locale sì 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 in programma è uno dei punti salienti del programma del presidente Schifani e della coalizione riformeremo le province c'è un ripeto anche lì un rapporto forte con Roma un'intesa con il ministro Calderoli e tra febbraio e marzo già noi possiamo nelle condizioni probabilmente di poter portare la norma in aula per riformare le province che attendono un organo politico da molti anni e la mancanza dell'organo politico ha portato veramente dei disastri all'interno di alcuni servizi che mancano all'interno di tanti territori della provincia per cui nei prossimi nei prossimi mesi ci attiveremo per riformare le province per votare nuovamente attraverso le elezioni di primo grado per cui andiamo avanti dritti verso questa direzione e purtroppo la legge famosa legge del rio ha creato veramente isolamento e veramente delle condizioni di assoluta inefficienza da parte delle città metropolitane diciamo anche che la legge del rio in salsa siciliana forse anche peggiorativa è stata molto peggiorativa devo dire infatti si pensa di abrogarla e di iniziare un'attività veramente di riforma assegnando alle città metropolitane quei servizi importanti che svolgevano un tempo che erano perché l'ente intermedio oggi veramente manca nella nostra regione per cui cercheremo di attivare e far ripartire un ente con servizi competenze e con risorse per garantire migliori servizi al territorio siciliano insomma ci aspettiamo grandi risultati fra febbraio e marzo perché dovrebbero arrivare le province dovrebbe arrivare anche la fusione faierca che crias quindi i finanziamenti mi hanno garantito che entro il 31 marzo mi hanno garantito il consiglio di amministrazione insieme ai revisori che entro il 31 marzo sarà realizzato il processo di diffusione e quindi nascerà finalmente l'IRCA una buona notizia per le cooperative e per gli artigiani bene e quindi ci diamo appuntamento a questo punto ai primi di aprile per valutare quello che è successo e per parlare delle eventuali altre cose da fare grazie all'assessore di Itamaio che è stato con noi grazie soprattutto a voi che ci avete seguito in questa nuova puntata di Talk Sicilia e vi rinnovo l'appuntamento per la prossima arrivederci